Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che torniamo ad aprire parlando di sanità perché c'è una proposta al baglio del Ministero della Salute e di quello della Difesa destinata a far discutere. Il commissario ad acta della sanità regionale ha proposto infatti di fare ricorso ai medici militari in Molise per evitare la chiusura dei reparti ospedalieri. Secondo Giustini servono soprattutto ortopedici ma anche ginecologi, anestesisti, chirurghi. Sentiamo in apertura Giovanni Di Tota. Medici militari in corsia per evitare la chiusura di alcuni reparti negli ospedali della regione. L'idea è stata proposta dalla struttura commissariale guidata dall'ex generale della finanza Angelo Giustini e dalla subcommissaria Ida Grossi e oggi è arrivata sui tavoli del Ministero della Salute e di quello della Difesa. Si tratta di medici militari specialisti da impiegare per almeno cinque mesi in quei reparti particolarmente in sofferenza da una dozzina d'anni. Mancano ortopedici, chirurghi, ginecologi, anestesisti e infermieri e con l'arrivo dell'estate la situazione non può che peggiorare ha motivato nella relazione inviata ai ministeri il commissario ad acta della sanità molisana Angelo Giustini. L'evidente contrazione di risorse mette sempre più a rischio il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. Un problema, quello relativo alla cronica mancanza di personale medico e infermieristico che già da mercoledì potrebbe determinare la chiusura dei reparti di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Serni e Termoli, poi a seguire le altre specialità, hanno spiegato dall'azienda sanitaria, con la chiusura di altri reparti. Medici militari nelle strutture molisane dunque per almeno cinque mesi, il tempo necessario, ha chiarito Giustini, affinché il decreto Calabria possa essere approvato, più il tempo per espletare i concorsi consentendo di superare lo stallo nella governance del servizio sanitario regionale e del diritto all'equità e universalità di accesso dei cittadini. Intanto il Ministero della Difesa ha individuato un elenco di 105 camici bianchi che operano nella sanità militare, che possono essere selezionati e impiegati in quella civile. I medici hanno le specializzazioni utili al Molise per evitare di chiudere i reparti, la decisione spetta ai Ministeri della Difesa e della Salute. E come dicevamo fa discutere questa proposta del commissario alla Sanità Angelo Giustini di utilizzare i medici delle forze armate per fronteggiare la carenza di specialisti negli ospedali pubblici molisani al fine di evitare ulteriori chiusure di reparti. Nettamente contrari il governatore Donato Toma, l'UGL nazionale e Alessandra Mussolini, favorevole invece l'ex presidente Michele Iorio che attacca frontalmente i ministeri competenti e il tavolo tecnico nazionale, mentre il Partito Democratico si scaglia contro il governo giallo-verde e contro la giunta Toma. Sentiamo il commento di Giovanni Minicozzi. Ha conquistato le cronache nazionali la proposta del commissario alla Sanità Angelo Giustini di voler fronteggiare la crescente carenza di specialisti negli ospedali pubblici molisani chiedendo il supporto dei medici delle forze armate. Una soluzione tampone per evitare ulteriori chiusure di reparti in attesa di nuovi concorsi o dell'autorizzazione ministeriale per poter utilizzare medici in pensione. A tambur battente però è arrivata la netta opposizione del governatore Donato Toma. Sono contrario a soluzioni non strutturali ed estemporanee, ha dichiarato all'ADN Kronos, perché non ritengo si tratti di una soluzione utile e praticabile. Avrei gradito una informazione preventiva da parte del commissario, ha concluso Donato Toma. Dunque continua la contrapposizione tra il presidente della regione, che non ha ancora digerito la norma sulla sua incompatibilità, e il commissario Angelo Giustini. Una sorta di lesa maestà per il governatore, che però non dà alcuna soluzione per fronteggiare il grave problema. Diametralmente opposta invece la posizione dell'ex presidente Michele Iorio. Credo che la soluzione sia necessaria. Va dato atto al commissario di essersi mosso con rapidità, avendo compreso qual è la difficoltà del Molise. Io dico in sintesi, soprattutto sul piano politico, che spero che adesso nessuno più pensi che il Molise ce la può fare da solo, con un fondo sanitario assolutamente non idoneo a garantire i livelli essenziali di assistenza in questa regione. Se dopo 12 anni di piano di rientro siamo ancora nella situazione di avere il blocco del turnover, significa che qualcuno a Roma non ha capito di cosa si sta parlando. I tavoli tecnici hanno stravolto e hanno rovinato la sanità molisana attraverso procedure burocratiche assurde, astruse, ingiuste e non costituzionali. Il piano sanitario è scaduto, serve un altro piano. Chi lo dovrà redigere? La regione, il consiglio regionale oppure la struttura commissariale? La struttura commissariale deve fare il nuovo posto, il nuovo piano, ma credo che avrà molte difficoltà, sempre perché i conti non tornano. Mi auguro che qualcuno prenda sul serio la questione del Molise come un problema da risolvere e non con i tagli, ma con il rilancio di una sanità pubblica che merita di essere rilanciata. Nettamente contrari ai militari in corsia l'UGL nazionale, dopo l'ultima follia del Molise basta con il numero chiuso alle facoltà di medicina e Alessandra Mussolini che ha dichiarato trovo vergognoso che venga addirittura scomodato l'esercito per affrontare l'emergenza sanità negli ospedali del Molise. Dura anche la posizione del PD che attacca frontalmente il governo nazionale e quello regionale. Dopo un anno di immobilismo è ora di darsi da fare per risolvere i problemi abbandonando il mantra di dare sempre la colpa al passato e assumendosi la responsabilità di trovare le soluzioni finora solo promesse, ma mai perseguite, ha dichiarato il segretario del PD Vittorino Facciolla. Finiti i proclami e le elezioni, sul terreno resta solo l'incapacità certificata e i conseguenti disastri economici e sociali, ha concluso Facciolla. Al di là delle differenti opinioni resta il fatto che, militari o non, bisogna salvaguardare l'operatività dei reparti e la salute dei molisani messa a rischio da continui tagli imposti dai ministeri. Apriamo ora la pagina delle elezioni amministrative. C'è stata una conferenza stampa a Campobasso di Roberto Gravina, candidato alla carica di sindaco del Movimento 5 Stelle. Ha illustrato alcuni punti del suo programma elettorale, tra cui spicca la riorganizzazione e il potenziamento della Polizia Municipale. Intanto, Michele Durante, attuale presidente del Consiglio Comunale, ha annunciato il sostegno a Gravina in occasione del ballottaggio di domenica prossima. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Mancano pochi giorni al ballottaggio di domenica prossima e il lavoro di Roberto Gravina, candidato alla carica di sindaco di Campobasso con il Movimento 5 Stelle va avanti. In mattinata ha incontrato i giornalisti per illustrare uno dei punti del programma di governo, la riorganizzazione e il potenziamento della Polizia Municipale. Sì, abbiamo inserito nel programma che cosa? Innanzitutto dobbiamo dotare il corpo di un comandante perché è una posizione che riteniamo indispensabile e al tempo stesso cercare di implementare ancora di più la pianta organica perché sappiamo benissimo che siamo ancora al di sotto di quello che è la dotazione prevista dalla pianta organica dell'ente. Quindi sono due aspetti importanti che abbiamo inserito nel programma insieme poi alla riorganizzazione della macchina comunale. Nel frattempo, poco prima, il presidente del Consiglio Comunale, Michele Durante, annunciava apertamente il suo appoggio al candidato 5 Stelle in occasione del voto del 9 giugno. Non mi interessa la possibilità di un seggio in opposizione al centrodestra. Voterò per Roberto Gravina, aveva detto. Questo è il commento del candidato 5 Stelle. In verità non è l'unico. Sono sganciati nel senso che man mano stanno venendo fuori un po' varie endorsement, quindi da parte degli schieramenti di centrosinistra. chiaro, fa piacere nel senso che in questa fase, nonostante non ci sia stata un'interlocuzione ufficiale, sapete benissimo, non abbiamo fatto apparentamenti, chiaramente fa piacere. C'è qualcuno che dice che lei è impreparato, non ha la giusta esperienza per affrontare la gestione di un comune come quello di Campobasso? Fa sorridere amaramente perché chi lo dice, tra l'altro, lo dice senza avere una benché minima esperienza amministrativa all'interno del Consiglio Comunale. La cosa che sorprende è che addirittura ho sentito parlare di riduzione del 30% delle imposte comunali, che è follia, perché solo chi non conosce può dire una cosa del genere. Quindi non prendiamo in giro i cittadini di Campobasso. Quello che si potrà fare lo abbiamo già scritto nel programma. E il Movimento 5 Stelle ha presentato in Consiglio regionale una proposta di legge che si occupa della polizia locale. Gli aspetti più innovativi sono innanzitutto l'associazionismo in favore dei piccoli comuni, perché è inimmaginabile avere agenti singoli in ogni comune, mentre bisogna andare verso le funzioni associate. Questo permetterebbe di avere una maggiore settorializzazione delle professioni, una maggiore specializzazione degli agenti di polizia municipale. Questo è sicuramente uno degli aspetti più vincenti e maggiormente voluto dagli stessi agenti di polizia locale. Per quanto riguarda i grossi centri, si intende favorire gli accordi anche con le altre forze dell'ordine sotto una regia regionale per favorire anche politiche integrate di sicurezza urbana. Ormai è innegabile che c'è necessità di un maggiore controllo e di un controllo più capillare sul territorio. Questo anche per combattere la microcriminalità crescente. E questa proposta di legge va proprio in questo senso. Lutto in Molise per la scomparsa di Luigi Biscardi, studioso e senatore della Repubblica dal 1992 al 2001. Si è spento ieri all'età di 91 anni. Nato a Larino, era il fratello maggiore di Aldo, noto giornalista sportivo scomparso nel 2017. Biscardi aveva svolto anche una legislatura in consiglio regionale, ma alla sua carriera politica si affianca anche un passato da preside per anni al liceo classico Mario Pagano di Campobasso e poi provveditore scolastico ad Ancona. I funerali sono in programma domani alle 10.30 nella chiesa di San Francesco a Campobasso. Ora ci spostiamo a Isernia e continuiamo a parlare di politica perché è stato approvato dal Comune il rendiconto di bilancio, anche se in aula non sono mancate le accuse e le repliche da parte di minoranza e maggioranza su scuole, soste blu e mancati pagamenti ai fornitori. Ci racconta tutto Enzo Di Gaetano. Consiglio Comunale agitato, quindi perfettamente di routine a Palazzo San Francesco. All'ordine del giorno il consuntivo 2018 portato in aula e approvato con forti rimostranze con l'astenzione o il voto contrario di esponenti dei partiti di centrodestra all'opposizione come Giovan Carmine Mancini. Il dato politico che c'è un centrodestra queiso che è rappresentato da Forza Italia, da Alleanza per il Futuro che il movimento politico con l'onore di rappresentare a livello nazionale, regionale e locale e la Lega, cioè il vero centrodestra, il centrodestra reale che governa o è all'opposizione in tutta Italia, per di più governa, non è in maggioranza. La maggioranza è composta da un fritto misto che continua a far friggere appunto la città di Sernia e con essa i cittadini di Sernia e che deve andare al più presto a casa dove c'è di tutto ma non c'è il centrodestra. Perché il dato politico con la dichiarazione del capogruppo della Lega Testa, con la dichiarazione del capogruppo di Forza Italia, Remondo Fabrizio e con i miei interventi reiterati in aula è all'opposizione. Questo è un dato di fatto. Forte la contestazione di Giovan Carmine Mancini anche per il mancato inserimento nel documento contabile di 1.200.000 euro di fondi per le scuole, per il mancato pagamento dei fornitori e per l'assenza di una posizione politica sul caso Soste Blu. Dimenticano di inserire nel bilancio di previsione 1.200.000 euro circa di fondi assegnati alle scuole San Pietro Celestino e San Giovanni Bosco, altro che direttanti allo sbaraglio, molto di più. Il dato reale su questo punto è che se entro agosto non li rendi contano, li perdono e questo sarebbe un gravissimo danno ovviamente per il futuro della nostra città, perché si tratta di scuole dove dovrebbero andare e dove vanno i nostri figli, i nostri ragazzi, il nostro futuro. Ma c'è ancora di più, non c'è alcun intervento politico sulla sciagurata gestione delle strisce blu, si scarica tutto su un dirigente, non c'è alcun intervento politico sulla mancata pagamento delle fatture di chi fa servizi, di chi presta opera, di chi vende, di chi ha a che fare con il comune di Senna. Non si è fatta attendere la replica del consigliere delegato al bilancio, Giampiero Mancini, che ha ribadito che i soldi per le scuole non sono persi. I soldi sono andati nell'avanzo vincolato e approvato il rendiconto saranno ora stanziati. Per quanto concerne le fatture invece la politica non entra nel merito dei pagamenti, ma si adopera per procurare le risorse atte a soddisfare gli impegni. L'unico dato certo e inconfutabile è che noi, chiude Giampiero Mancini, abbiamo sottratto un milione e mezzo della nostra programmazione per mettere le risorse che altri avevano utilizzato senza disporne, segno di amministrazioni che navigavano a vista e di cui Giovan Carmine Mancini faceva magari anche parte. Cerimonie in tutta Italia per la festa della Repubblica nel servizio. Vediamo quella organizzata a Isernia e ce la racconta Sergio Di Vincenzo. Rappresentanti delle forze dell'ordine e dell'esercito, amministratori comunali e provinciali, associazioni combattentistiche d'arma, studenti e cittadini. In tanti hanno partecipato alla cerimonia organizzata a Isernia in occasione della festa della Repubblica nella piazza dedicata alla medaglia d'oro Tullio Tedeschi. Dopo la rituale deposizione della corona ai piedi del monumento ai caduti, il prefetto Cinzia Guercio ha letto il messaggio del presidente Mattarella, ricco di spunti per i rappresentanti del governo. Nella nostra provincia in particolare il prefetto sta lavorando su questi obiettivi. Ci sono priorità occupazionali, ma anche e soprattutto un'attenzione verso i giovani, verso gli anziani, un recupero anche del senso di comunità, perché anche la comunità è chiamata alle sue responsabilità. Io mi sono fatta l'idea che i molisani siano delle persone molto vive e molto oneste, ma che hanno bisogno di essere stimolate. Gli stimoli devono venire dalle istituzioni, dalle università, dalla scuola, devono venire dai sindaci, dai residenti delle province, dalla regione, però io credo che debba essere anche uno stimolo interiore. Durante la cerimonia è stata consegnata l'onorificenza di ufficiale al tenente colonnello Gennaro Ventriglia, comandante provinciale dell'arma, per le sue capacità professionale e doti umane, mentre sono stati insigniti del titolo di cavaliere Carmelina Colantuono, imprenditrice impegnata nella valorizzazione della transumanza, Fabio Paolini, luogotenente della Guardia di Finanza per i risultati ottenuti in numerose indagini, ed Eugenio Silvestre, già dirigente dello scientifico Majorana di Sernia, per il suo impegno e le innovazioni apportate nel mondo della scuola. La manifestazione è proseguita all'auditorium, dove, esercitazione dei vigili del fuoco a parte, il prefetto ha voluto coinvolgere le scuole. Gli alunni della primaria della San Giovanni Bosco hanno proposto canti e coreografie, mentre gli studenti del cuoco Manupella sono intervenuti con alcune riflessioni sulla ricorrenza. Ho voluto coinvolgerli perché comunque sono la forza viva della Repubblica e hanno veramente un peso importante, ma soprattutto perché bisogna avvicinare i ragazzi ai valori istituzionali della libertà, della legalità, capire che la libertà è un bene che è costato tanto, non è qualcosa di gratuito. È precipitato dal quarto piano un volo che non gli ha lasciato scampo ed è morto così un medico di 70 anni. La tragedia questa mattina a Campobasso, all'interno del cortile di un popoloso condominio di via Monsignor Bologna. A chiamare i soccorsi alcuni residenti che hanno visto il corpo esanime dell'uomo a terra sul posto, gli agenti della questura, i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Continuiamo il nostro viaggio nei comuni dove sono stati eletti nuovi sindaci. Andiamo a San Giuliano di Puglia e a Rotello, il servizio di Manuela Iorio. Con 516 voti il nuovo sindaco di San Giuliano di Puglia è Giuseppe Ferrante, a cui viene passato il testimone da Luigi Barbieri che è stato sindaco per 15 anni consecutivi nel periodo più delicato per la comunità nel post-terremoto. Sono orgoglioso di poter rappresentare questa comunità che ha tanto sofferto e nella sofferenza è riuscita a rialzarsi sempre più forte di prima. Hai avuto la meglio su un altro giovane, Carmelo Riggio, tu hai 36 anni e sei assessore uscente dell'amministrazione. Giuseppe, una linea di continuità? Certamente, non posso far altro che ringraziare Barbieri per tutti gli insegnamenti che mi ha dato. Quali saranno le priorità del vostro programma? Sei giovane, ci sono diversi giovani nella lista? Certamente, sì, la lista è piena di giovani e le priorità che posso dire soprattutto guardare al sociale, sociale e cultura in questo momento. A Rotello invece il nuovo sindaco è Michele Miniello che con la lista Progetto Comune ha totalizzato 501 voti rispetto all'avversaria Maria Antonietta Campolieti che ha ricevuto 255 preferenze. Cosa rappresenta per lei, per la sua lista questa vittoria? Ma userei una parola sola, cambiamento. Cambiamento non solo dell'atteggiamento ma della mentalità, della mentalità. Un impegno per il Paese e allora quali saranno le priorità del suo programma elettorale, del vostro programma? Allora abbiamo due priorità, una linea di massima, un programma di massima e una di minima. La minima è di correre a ripari subito per tutti i problemini che ci sono nei paesi, le strade, il cimitero, le varie cose, la casa di riposo. Poi c'è una di massima dove abbiamo, diciamo, un progetto, dei grandi progetti, un programma, diciamo, dei grandi progetti che ci vorrà un po' di tempo prima di attuarli, però io ho un gruppo molto solido di ragazzi piuttosto giovani ma molto preparati che mi daranno una mano. Io sarò il coordinatore, sarò il garante, diciamo, di questo gruppo. La cosa che possiamo promettere è che ci impegneremo a morte. Io sarò tutti i giorni sul comune come un impiegato comunale per studiarmi le carte e per ascoltare anche i cittadini. Questa è la promessa che posso fare. Poi il resto vedremo, vedremo. 2.600 chilometri in Vespa da Campobasso a Lungheria sarà questa l'ultima avventura dei Vespisti Molisani dal 4 all'11 giugno. Porteremo al seguito i nostri prodotti tipici, hanno detto durante la presentazione in piazza Municipio a Campobasso e c'era per noi Marta Martino. Un viaggio da Campobasso a Lungheria, come vi è venuta questa idea? Ci è venuta perché dalla passione della Vespa è come raggiungere la Mecca per ogni Vespista. Di fatti ogni anno a rotazione in Europa si fanno questi mega raduni, raccolgono 3.500, 4.000 Vespisti che raggiungono questi posti designati di volta in volta da tutte le parti d'Europa e del mondo. E noi come al solito partecipiamo con il nostro forte gruppo di 14 Vespa e 16 persone per poter portare anche in quei posti la nostra cultura, il nostro modo di mangiare. Di fatti siamo attrezzati con tutto un bel bagaglio che costituisce il nostro meglio in fatto di alimentazione, salsiccia, caciocavallo, per cui avremo modo di far assaggiare a quanto incontriamo gli amici che incontriamo, i nostri prodotti tipici. Non siete tutti di Campobasso e non siete tutti della stessa età? No, siamo 9 Vespe di Campobasso e un'altra 5 che sono degli amici di Riccia, che facciamo questo percorso tutti insieme, tutti compatti. Il ventaglio di età varia da chi ha più di 60 anni a una coppia di giovani che hanno intorno ai 20 anni, per cui sarà per noi un ulteriore modo di prestare attenzione e trasmettergli quello che di bello rappresenta appunto la Vespa e questo modo di viaggiare, così tanto piano che riesci a percepire addirittura l'odore e il colore del viaggio, non solo l'ambiente. Ma non è un viaggio troppo lungo da fare in Vespa? Assolutamente no, perché la Vespa, sebbene un mezzo molto spartano, intanto è un mezzo che è molto semplice meccanicamente, per cui pure le più semplici riparazioni possiamo effettuare dal volo. Da cambiare la ruota di scorta, la camera d'aria, la candela anziché il filo delle marce, è una cosa a cui siamo così tanto abituati, per cui si fa repentinamente, volentieri, sapendo che è una circostanza che è solida in un viaggio così lungo. E per i bagagli come fate? I bagagli li riduciamo al minimo, di fatti c'è un preciso decalogo dello stretto necessario per evitare di sovraccaricare le Vespa. Centinaia di alunni hanno partecipato alla ventottesima edizione del concorso Il Valore del Latte, la gara di creatività promossa dalla del Giudice, punta a sviluppare i principi della sana alimentazione a scuola e tra le famiglie. Sentiamo Fabrizio Occhionero. Disegno, foto e video, digitale, ma anche canzone, tema e poesia. Tante forme espressive per coinvolgere centinaia di alunni delle scuole di Abruzzo, Molise e Puglia in una gara di creatività che promuove un'alimentazione e stili di vita corretti. Riuscita la ventottesima edizione del concorso Il Valore del Latte, premio vittorio del Giudice, organizzato dall'azienda e rivolto alle classi della primaria e della secondaria di primo grado. Il senso è coinvolgere questi ragazzi ad utilizzare la loro energia, la loro inventiva, la loro fantasia, anche dandogli soltanto un là, come il titolo proprio del nostro concorso. Quest'anno era Latte che storia e hanno fatto un salto nel passato utilizzando veramente tanti strumenti, tante idee, tanta fantasia. Siamo rimasti stupiti e meravigliati dalle loro elaborati. La giuria presieduta da Giulio Corradi ha selezionato i migliori elaborati pervenuti, frutto della sensibilità delle scuole e dei loro dirigenti. Quello che è stato premiato è proprio la creatività, quindi la fantasia, il trasformare il prodotto in qualche cosa di diverso. In più è stato premiato moltissimo il lavoro interdisciplinare, che è importante. Infatti non è stata messa di mezzo solo la letteratura, quindi uno scritto di italiano, ma anche l'arte, così come la musica, così come la storia, quindi il fatto di lavorare insieme i vari professori. Alla cerimonia di premiazione nell'auditorium del COSI vanno preso parte i vertici dell'azienda e il comandante dei carabinieri di Termoli, Edgar Pica, David Falcinelli dell'Associazione Produttori Italiana, i componenti della giuria e gli alunni delle scuole vincitrici. Per noi è una missione che portiamo avanti davvero da tanti anni e tantissime generazioni di giovani studenti che vengono a trovarci e con loro osserviamo più da vicino sia il processo produttivo, ma in particolare cerchiamo di scendere nel dettaglio dell'educazione alimentare. 25 gli istituti partecipanti che confermano anche l'impegno dedicato alle visite guidate allo stabilimento. Noi insieme alla nostra classe abbiamo partecipato con questo concorso grazie ad un video in cui noi e gli altri nostri compagni abbiamo realizzato, in cui facciamo alcune scene che realizzano nel Valore del Latte, da qui dalla nostra città, ovvero Termoli, Cristoforo Colombo con suo nonno e suo zio partivano per una missione. Tutto questo l'abbiamo svolto grazie alla nostra professoressa, la professoressa Pagliarulo che ci ha aiutato nel nostro lavoro e siamo molto contenti oggi di essere qui ad assistere a questa premiazione. E ora parliamo di un documentario che tra i tanti risvolti storici e culturali svela anche quanto amore per il proprio paese si nasconda dietro la realizzazione della mascherata di Ripa Limosani. E' questo il senso del lavoro prodotto dall'associazione Simposio Ripa insieme alla bottega della mascherata attraverso il quale il regista Gianni Manusacchio ancora una volta ha raccontato il meglio del Molise. C'era per noi Fabiana Abbazia. Un'attente e minuziosa riflessione sulla genesi e l'evoluzione di un evento folcloristico che da un secolo appassiona la popolazione di Ripa Limosani nel periodo di Carnevale. Una giornata particolare è il titolo del documentario sulla storia della mascherata firmato dal regista Ripese Gianni Manusacchio. Un lavoro di ricerca ed elaborazione durato circa un anno che con documenti, foto e interviste certifica come si è trasformato quel musical nazional popolare che in occasione del Carnevale giovani e meno giovani mettono in scena per le vie del paese. Il mio obiettivo principale era quello di raccontare la mia comunità. Questo è il terzo documentario che ha come punto di interesse Ripa Limosani e l'ho intitolato appunto una giornata particolare perché volevo capire io in prima persona cosa spinge una persona cosiddetta normale che fa dei lavori ordinari a vestirsi da donna e far ridere la propria comunità. Fino agli anni 40 se c'erano sketch napoletani o musica del festival di Sanremo con l'avvento di Maretano all'inizio della metà degli anni 70 appunto Maretano inizia a dare un plot quindi un testo, delle canzoni e una trama con i ragazzi con Gianmarco Di Lauro e Danilo Cristoforo. Io sono rimasto folgorato sulla via a famiglie di Mereviglia nel 2017 che si sono occupati di omofobia, immigrazione e bullismo. Quindi temi sociali in uno spettacolo di carnevale. Complimenti. Da sempre ambasciatore della sua terra d'origine Manusacchio che ha collezionato premi e menzioni speciali è tornato così a mettere la sua arte al servizio del proprio paese. Lo ha fatto questa volta tornando ad esaminare vicende sociali, artistiche, religiose e culturali del piccolo borgo millenario dove ogni anno persone del paese vestono i panni dei personaggi più disparati la cui interpretazione non ha nulla da invidiare a quella di attori professionisti. E sono sicuro che almeno la metà di loro si spaventerebbero davanti a una sfida così grande, cioè quella di vestire i panni di un personaggio. Poi un uomo, un idraulico, un barrista, un imbianchino che seriamente per l'intero arco di quella giornata riesce a calarsi nei panni di una mamma, di una comare, di una figlia ed interpretarlo in un modo strepitoso. Ma il documentario firmato da Manusacchio certificando il lavoro di un'intera comunità vuole anche essere strumento di promozione per una terra autentica come quella del Molise, una terra capace ancora di condire con amore e passione quelle tradizioni che si nutrono di arte popolare. E con la mascherata di Ripa Limosani termina anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie perché scegliete Telemolise. Buonanotte.